Teatro Gremito Intanto io ringrazio il Rotary, ringrazio il dottor Lembo che ha permesso tutto questo e la città di Marsala. Diciamo che tutto nasce da un incontro con una mamma in una rianimazione dove purtroppo facendo le cose sbagliate aveva ostruito il figlio. Nasce 11 anni fa questo progetto attraverso la Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza della Pediatrica, la Croce Rossa, adesso salvamento Academy American Art, che insegna alle mamme, ai papà, agli assistenti dei bambini disabili, alle maestre, quelle semplici manovre che erano riservate prima solo ai medici, mentre invece il bambino purtroppo una settimana non si ostruisce in ospedale ma o a casa o a scuola. Quindi oggi queste persone diciamo che sono vaccinate, hanno imparato a salvare un bambino, soprattutto a riconoscere il pericolo, a vedere quali sono gli oggetti e gli alimenti che non vanno dati fino a 36 mesi e se vanno dati come. Dottor Lembo, dopo mesi di preparazione, tanta apprezzione, finalmente stiamo debuttando e penso che se il buongiorno si vede al mattino, penso che vedere mille persone qui già è un successo. Sì, è un successo. Io penso tanto che abbiamo mille angeli che possono salvare dei bambini. E questo fa parte della nostra missione di Rotariani, perché per noi Rotariani facciamo servizio. Servire significa essere la distruzione delle persone, della gente. Mi auguro che questo non sia un processo che si fermi qui, ma che come diceva il dottore Squicciarini sia l'inizio di un processo di cultura, di servizio e di salvare più persone possibile, perché Marsala diventa una città simbolo anche nell'essenza dell'essere a disposizione degli altri. Dottor Squicciarini, forse in Italia siamo indietro con la normativa. Ma non sono previste figure del genere, o quantomeno se è previste non si dà tanto aiuto. Poi capita che magari una direttrice o un addetto alla mensa non ha un patentino del genere, il buono dei bambini sotto gli occhi di tutti. Ecco, cosa si potrebbe fare per incentivare il nostro Stato a mettere le regole ferre? Ha centrato proprio il punto. In Italia non c'è l'obbligatorietà nei corsi di primo soccorso di esercitarsi sul bambino di varie età, quindi lattante, bambino, bambino grande, e tante volte abbiamo incontrato difficoltà, ci dicono non è previsto, quindi non va affatto questo corso. In realtà è il buon senso che spinge le persone che vivono e lavorano accanto ai bambini ad informarsi in attesa che le normative prevedano proprio questo. Ci sono delle regioni intanto che autonomamente si sono mosse.